Ciao ragazzi siamo arrivati al termine della descrizione della comparazione delle bici decathlon in particolare della fascia triban è giunto il momento quindi di dire quella che secondo me risulta essere la scelta migliore per l'acquisto ricordiamo che le triban sono biciclette per il cicloturismo e quindi questo è il loro ambito dunque secondo me considerando la fornitura la fascia di prezzo e anche i modelli ultra che andremo poi a vedere successivamente secondo me la migliore bici triban da comprare è la 520 la triban 520 infatti costa meno di 500 euro offre un gruppo shimano sora che è di tutto rispetto di quinta generazione quindi una bicicletta molto buona che costa molto poco e che è indispensabile per tutti coloro che vogliono per la prima volta provare l'ebrezza di una bicicletta da ciclismo andiamo quindi a vedere perché comprarla non ho dubbi che la triban 520 sia la bicicletta ideale per tutti coloro che iniziano per la prima volta ad avvicinarsi al mondo del ciclismo come ho detto nella presentazione costa poco costa meno di 500 euro fornisce una forcella in carbonio una buona fornitura e soprattutto un gruppo shimano sora arrivato ormai a una generazione molto ma molto affidabile la 520 è da preferire alla 540 per il prezzo perché per quella cifra per il prezzo per cui costa la 540 potremmo già pensare di andare a comprare un modello between ultra la vera essenza dei modelli triban a mio modesto avviso è la 520 come dicevo la triban 520 monta gli ingranaggi sora shimano un telaio in lega di buona qualità una forcella in carbonio e un kit di finitura decente insomma secondo me a questo prezzo la 520 per iniziare è un vero e proprio affare un punto negativo di questa bicicletta sono però i freni che lasciano un po' a desiderare quando si compra questa bicicletta uno degli aggiornamenti che andrebbero subito fatti potrebbe essere quello appunto di cambiare immediatamente le pasticche dei freni con delle mescole con un compound molto più aggressivo sul cerchio in modo da accorciare notevolmente lo spazio di frenata le ruote che monta questa triba non sono sicuramente le più leggere in commercio ma sono comunque molto ma molto affidabili e i pneumatici Hutchinson Equinox da 25 mm danno un buon comfort e allo stesso tempo un buon rotolamento complessivamente questi sono soldi ben spesi non si arriva nemmeno a 500 euro anche se le ruote pesanti e i freni un pochino da rivedere sono gli unici punti negativi direi che questa è comunque una buonissima bici ad un prezzo incredibile e l'insieme dei suoi componenti abbinata ad un prezzo notevolmente sotto mercato rendono questa bici a mio avviso il miglior modello di Triban da comprare Grazie 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 Grazie